Benvenuti alla terza puntata di Green Talks, questa volta trattiamo un tema veramente interessante, cioè gli strumenti finanziari che servono per riuscire a realizzare progetti, in questo caso imprenditoriali orientati verso la transizione energetica quindi questa volta parliamo di Sabino Costanza che lo abbiamo intervistato, lui appunto è il fondatore di Credimi.it, la piattaforma di FinTech che sarebbe finanza e tecnologia che va a cercare in qualche modo quelle realtà da finanziare e ha dato aiuto a più di 2.000 600 aziende nella sua operazione quindi dalla nascita di questa azienda e oggi ha come partner all'interno del suo capitale sociale niente po' di meno che cassa depositi e prestiti italiane vediamo un po' Ospite direi d'eccezione venuto da Milano, grazie di essere qui con noi nei nostri studi, Vino Costanza il fondatore di Credimi, questo progetto questa start-up tra l'altro l'abbiamo appreso anche durante i nostri colloqui pre-registrazione proprio diciamo un'idea giovane perché comunque io e Sabino siamo anche vicini come età lui siamo tutti trentenni diciamo e tra l'altro proprio oggi anche qui in studio sono venuti nuovi ragazzi con delle nuove idee nuove start-up quindi c'è diciamo un certo modo di andare avanti che sembra essere anche quello giusto cioè cercare di creare delle idee e dargli in qualche modo una direttrice e cercare poi ovviamente il soggetto investitore e su questo ovviamente tu hai da insegnarci tanto Credimi è una piattaforma che ha finanziato più di 4.000 aziende lo scorso anno ed è diciamo un'elite in questo settore noi oggi abbiamo il piacere di avere Sabino Quip che ci parlerà della sua storia e soprattutto rappresenta diciamo anche un'elite giovanile italiana e in particolare un focus sulle start-up Sabino grazie mille dell'invito Fabio è un piacere essere qui oggi beh parto raccontando un po' cosa è Credimi e cosa fa Credimi è un'azienda nata con la missione di aiutare le piccole e medie imprese a crescere attraverso l'uso di dati e tecnologia siamo partiti dal credito e quindi abbiamo provato e proviamo diciamo nel continuo a semplificare e velocizzare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese nel tempo correderemo il credito con degli altri servizi sempre per le piccole e medie imprese sempre per aiutarle a crescere sempre per aiutarle a migliorare la loro produttività che è un aspetto molto importante di benessere sia dell'impresa ma sia dell'economia dell'economia in generale ecco tu diciamo sei raccontaci un po' la tua storia diciamo da studente e poi da fondatore di questo grande progetto quali sono stati i tuoi partner che in qualche modo ti hanno aiutato se vuoi nel senso svelare i loro nomi insomma la loro storia e come hai fatto ad arrivare diciamo dove sei arrivato oggi che sei un punto di riferimento in questo ambito sì senz'altro beh io diciamo ho studiato economia mi sono laureato in Bocconi ormai una quindicina di anni fa sono originario della provincia di Avellino quindi mi sono spostato a Milano per studiare quando diciamo ho raggiunto la maggiore età già ai tempi dell'università mi piaceva molto l'idea di fare impresa mentre studiavo l'idea era quella di lanciare una nuova attività piuttosto di trovare un lavoro poi in realtà diciamo ho fatto dei tentativi con degli amici che però non sono stati mai dei tentativi portati fino in fondo cioè si parlava si faceva anche un business plan però poi non si faceva lo step importante di avviare quell'attività e quindi ho iniziato a lavorare in consulenza ho lavorato per sette anni in due società di consulenza una si chiama Oliver Wyman e l'altra Boston Consulting Group dove mi sono occupato di consulenza banche e società di assicurazioni principalmente nel mentre diciamo di questi anni di lavoro comunque mi appassionavo di innovazioni e nuove attività e così verso il 2013 2014 ho iniziato a sentire del FinTech all'inizio lo studiavo perché era qualcosa che succedeva all'interno del settore dove lavoravo che è il settore finanziario poi a un certo punto mi sono chiesto se non fosse possibile fare un progetto di questo tipo anche in Italia visto che si stavano sviluppando molto per lo più negli Stati Uniti nel Regno Unito e anche tantissimo anche tantissimo in Cina in quel momento ho pensato di lasciare il lavoro che facevo all'epoca poi il primo progetto che volevo portare avanti in realtà non è partito e nel però diciamo parlare del fatto che volevo fare questo progetto sono entrato in contatto con Ignazio Rocco anche gli lavoravo in Boston Consulting Group all'epoca era un senior partner dell'azienda che in quell'occasione mi ha detto guarda anch'io sto pensando a un progetto FinTech a un progetto FinTech per l'Italia parliamone e poche settimane dopo mi ha proposto di avviare questa attività insieme a lui e qualche mese dopo abbiamo fondato Credimi insieme a una terza persona che si chiama Jacopo Anselmi che all'epoca lavorava in Google in Irlanda siamo partiti facendo raccolta fondi all'inizio abbiamo raccolta da imprenditori italiani quindi che ci hanno messo a disposizione l'equity iniziale per partire e da lì siamo partiti abbiamo iniziato a sviluppare l'azienda assumere le persone fare una richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia perché comunque il business finanziario è un business regolato e quindi richiede di determinate autorizzazioni per poter partire ed allora diciamo sono un po' di anni che cerchiamo di migliorare quotidianamente quello che facciamo e l'offerta che abbiamo e cerchiamo di arricchirla sempre di più con l'obiettivo di rendere felici i clienti che è la cosa fondamentale che deve fare che deve fare un'azienda mi sembra una storia veramente colorita poi tra l'altro prima ci siamo incontrati per prendere il caffè mi ho parlato anche di quell'avventura in Cina che è stata veramente una figata insomma questo ecco per quale motivo tu diciamo rappresenti un esempio per noi per il mondo delle start up per il mondo di quei ragazzi italiani che in qualche modo ci hanno provato tu ci sei riuscito alcuni ovviamente non sempre hanno trovato sia per le capacità ma anche sicuramente per non è sempre facile intersecare tutte quelle quelle necessità di cui abbiamo bisogno in una fase di start up appunto di inizio di un'attività ti sento anche vicino personalmente comunque per per la nostra il nostro ITE perché anche Casa dell'Energia è una start up che ovviamente vuole portare innovazione nel nostro tessuto cittadino inizialmente ma poi anche irrorarsi agli altri settori ecco che realtà siete oggi quanti lavoratori impieghi che indotto hai e la tua realtà diciamo dove opera soprattutto se vuoi rispondere a queste domande per darci un oggi credimi è una realtà che impiega circa un'ottantina di persone diciamo persone con differenti competenze che vanno da competenze finanziarie a competenze di marketing a competenze IT competenze di gestione di gestione dei dati quindi molto diversificata diciamo l'azienda ha un'età media dei dipendenti abbastanza giovane che è sotto i 35 anni è anche ben diversificata in termini di diversity sia dal punto di vista diciamo di genere ma anche dal punto di vista di provenienza delle persone quindi sono persone un po' da tutta Italia abbiamo anche qualche persona che viene dall'estero abbiamo siamo molto contenti di essere riusciti a far rientrare in Italia molte persone circa una diciamo tra tutte le persone che sono oggi incredibili o che lo sono state circa un 15-20 persone hanno deciso di rientrare in Italia attenzione scusa rientro di cervelli quindi non fuoriuscita ma rientro sì abbiamo cercato il più possibile di riportare cervelli in Italia molto spesso molti ragazzi italiani e spesso anche quelli più bravi vanno all'estero fanno un'esperienza e possono essere davvero una ricchezza per le aziende italiane quando rientrano perché portano anche competenze molto spesso innovative o su ambiti dove in Italia purtroppo al momento non siamo all'avanguardia e quindi dobbiamo necessariamente importare o importare se pensiamo che comunque sono persone che spesso si sono formate in Italia e poi sono andate a lavorare all'estero per quanto riguarda l'attività come dicevi prima abbiamo finanziato l'anno scorso circa 4.000 imprese complessivamente siamo quasi circa 8.000 negli anni di attività speriamo quest'anno di raddoppiare di nuovo quindi vorremmo nel corso di quest'anno riuscire a finanziarle tra 7.000 e 8.000 nuove aziende il focus è l'Italia ogni provincia italiana quindi diciamo l'azienda è basata a Milano ma serviamo tutte le aziende di tutte le province italiane che riusciamo che riusciamo a raggiungere attraverso una proposizione digitale e il fatto di essere digitali non vuol dire essere distanti dai clienti perché comunque diciamo un'azienda quanto ci chiama riusciamo a rispondere tipicamente in media a 20 secondi e quindi questo è qualcosa che rende molto soddisfatte le aziende che lavorano con noi questo perché perché ci chiamano rispondiamo velocemente risolviamo velocemente un problema che si trovano a dover a dover affrontare e adesso costruiamo anche il finale diciamo di questa di questa bellissima intervista e soprattutto cerchiamo di capire un po' quanto è importante innovarsi cioè perché le aziende italiane devono salire su quel treno dell'innovazione della digitalizzazione ne parliamo tanto ci sciacquiamo la bocca con la digitalizzazione la transizione digitale la transizione ecologica noi ne parliamo tanto però dopo che cosa significa perché dobbiamo anche stringere un po' siamo anche soggetti pragmatici che dopo devono devono capire come muoversi sul campo ecco Sabino ha sottolineato questa importanza ha sottolineato nella sua azienda l'importanza di avere skill nuove di persone formate anche all'estero e per quale motivo diciamo in Italia siamo un po' reticenti a saltare su questo treno dell'innovazione beh sicuramente va diciamo dobbiamo in un certo qual modo attivare attivare man mano che quando si inizia a partire poi tutti diciamo anche per emulazione capiscono l'importanza di cogliere l'opportunità di questa nuova rivoluzione industriale stiamo vivendo in questi anni sicuramente una nuova rivoluzione industriale che è di una velocità che non abbiamo mai vissuto diciamo ci sono in passato le grandi rivoluzioni industriali quindi l'arrivo del carbone l'arrivo del vapore noi abbiamo vissuto l'arrivo di internet l'arrivo di internet ha reso lo scambio di informazioni le comunicazioni ma anche le transazioni commerciali estremamente estremamente più veloci tutto questo fornisce delle infinite opportunità a chi riesce a coglierle fornisce delle opportunità di aumentare le proprie vendite ma anche delle opportunità di aumentare la propria produttività come azienda e quindi in particolar modo ma anche le aziende piccole che hanno strutturalmente un po' di difficoltà a fare investimenti in innovazione per budget unlimitati sono ormai al punto di dover avviare questo processo di rinnovamento cito un dato molto interessante che è un dato sulle vendite online e gli acquisti online ormai circa il 50% degli italiani acquista online ma solo il 5% delle imprese italiane vende online questo che significa? significa che molto spesso c'è anche un piccolo negozio in qualche provincia di un paese europeo o della Cina che vende abbigliamento per fare un esempio online tramite Amazon Alibaba c'è un consumatore italiano che lo compra ma non ci sono altrettanti negozi che dalla piccola provincia italiana decidono di vendere la propria merce online che cercano di utilizzare bene i nuovi canali di comunicazione e quant'altro la pandemia ha attivato questo processo di digitalizzazione anche attraverso proprio l'esigenza di dover digitalizzare spesso per sopravvivere ed è stato uno dei treni che ha guidato anche la ripartenza dell'export e dell'economia nel 2021 nel 2020 e nel 2021 le aziende italiane hanno esportato molto di più sono cresciute nell'export molto di più dei loro peer europei proprio perché hanno avviato dei progetti di digitalizzazione quindi tutto questo aiuterà a vendere di più e quindi anche aumentare il peer il benessere di tutti ma soprattutto ci sono anche progetti di digitalizzazione negli strumenti e nelle tecnologie usate in azienda quindi acquisire dei nuovi strumenti che ti supportano nella valutazione della tua posizione di cassa acquisire dei nuovi sistemi contabili che funzionano su una frontiera tecnologica diversa che ti permettono di fare quello che prima facevi in due giorni in due ore e ovviamente ti liberano tempo da dedicare ad altre attività tutto questo permette ovviamente di aumentare la produttività e la produttività è la base poi per qualsiasi per la ricchezza e per il benessere delle imprese che devo dire chiaro non c'è bisogno di aggiungere altro ti ringrazio di nuovo grazie a voi e mi fa piacere regalarti anche il mio libro fantastico grazie mille se anche Rocco Casalino ha scritto un libro lo possono scrivere tutti quindi nel senso questo è un libro che ho scritto durante il lockdown ho dedicato a mio figlio perché nel senso questo progetto che sto portando avanti è un progetto dedicato alle future generazioni anche noi siamo comunque persone ancora tra virgolette giovani però quello che intendiamo fare qui è cercare di passare attraverso una transizione ecologica a rivalutare tutto lo spazio urbano e a cercare di creare un ambiente che per i nostri figli per i nostri nipoti sia diciamo un ambiente accogliente e una città a misura d'uomo quindi complimenti per il libro grazie mille per veramente quindi te lo autografo in diretta e ti faccio ancora complimenti per diciamo la tua esperienza imprenditoriale che è un esempio grazie ce la mettiamo tutte e c'è ancora tanto da fare grazie per il libro green talks yes grazie a tutti